ciao a tutti cari amici buonasera e bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore allora come potete vedere ho già preparato le nostre solite due varianti per la nostra canalizzazione del pensiero serale io vi invito come al solito a scegliere tra la variante 1 e la variante 2 fatelo con istinto quindi non forzate la lettura perché magari vi piace il simbolino o quant'altro ma proprio concentratevi sulla persona per cui volete la canalizzazione magari chiudete gli occhi rilassatevi pensatelo intensamente figuratevi proprio il suo viso nella vostra mente e magari se vi può aiutare potete anche invocare il suo nome nel momento in cui sentite che siete pronti aprite gli occhi e andate sulla variante che proprio più vi colpisce allora io parto subito con la variante del gattino quindi metto in disparte l'ampolla la metto qui allora vi ricordo sempre che questi sono video interattivi quindi mi raccomando cercate di non forzare la lettura quindi se la sentite risuonare bene altrimenti provate a vedere se c'è un piccolo messaggio che in qualche modo vi deve arrivare o semplicemente se sentite proprio che non c'entra nulla magari provate a guardare un altro interattivo ricordo che questi video sono validi dal momento in cui vengono visti e di conseguenza non scadono quindi le energie non è che diventano si invecchiano come spesso mi è successo di leggere nei commenti questo perché nel momento in cui voi avete bisogno di avere un messaggio sentirvi dire qualcosa non importa quando è stato in realtà registrato il video voi avete bisogno di quel messaggio di vedere di capire determinate cose e il vostro istinto vi manda lì quindi nel momento in cui sentite di dover vedere un video o c'è qualcosa che vi attira forse c'è un messaggio per voi allora vediamo subito la situazione qui beh innanzitutto diciamo che è una persona che con voi sta molto bene è felice di avervi conosciuto è felice di avere un rapporto con voi vedo che c'è un senso di possesso o vostro da parte di questa persona la carta al centro stese mi parla di una concretizzazione quindi o è la persona stessa che desidera concretizzare con voi o lo pensa di voi che vogliate concretizzare il rapporto con la persona per cui chiedete la canalizzazione oppure è un uomo che è già impegnato ha già una realizzazione personale a livello affettiva affettivo o ce l'avete voi e quindi ecco perché subentra la carta della gelosia nonostante ciò è una persona che ringrazia di conoscervi di avervi tra nella sua vita diciamo e riconosce anche che voi sareste il pezzettino mancante per far sì diciamo che la sua parte la sua sfera emotiva e relazionale si completi in tutto e per tutto io vedo che prova anche un forte senso di solitudine questo uomo o c'è una distanza tra di voi proprio anche geografica ma per altri potrebbe riguardare una distanza emotiva ed è una persona che desidera proprio la coppia quindi il vivere il rapporto in modo quotidiano in modo proprio semplice diciamo come vedete qui c'è la carta sulla carta ci sono gli spazzolini no quindi mi parla della quotidianità di qualcosa che riguarda proprio vivere il rapporto e con le piccole cose quindi non parliamo di situazioni eclatanti l'uscire a cena o quant'altro questa è una persona che proprio vorrebbe vivere in semplicità quotidianamente un rapporto con voi per altri invece se sapete che questa persona è impegnata ma solo se lo sapete perché naturalmente è un interattivo quindi non vado ad approfondire e qui ci sono tante situazioni questa persona se è in relazione non sta bene cioè si sente da solo si sente isolato probabilmente si sente anche diverso dalla compagna e per questo magari non hanno le stesse idee non non hanno lo stesso modo di vedere le cose tuttavia non è una persona che sta male questa però diciamo si sente da solo questo sì o per le proprie idee o per come si atteggia o per come vorrebbe la coppia perché quasi anche un desiderio un pensiero sulla quotidianità del fatto che questa persona si sente da sola vediamo con gli oracoli del vorrei dirti che che cosa si aggiunge la stesa del gattino allora spiango spesso per te lo so che mi comportato male so che oltre passato il limite con te ti sento distante sei solo amicizia per me e qui abbiamo voglio lasciarti allora qui naturalmente potrebbe esser sia una persona appunto che è impegnata e che diciamo qui probabilmente forse via un po presi in giro perché questa persona vi sente sua però qua dice vabbè piango spesso per te quindi una persona comunque che soffre la vostra distanza la vostra lontananza il fatto di non poter avere questa relazione perché qui per molti di voi la persona impegnata come dicevo prima anche se appunto si sente solo all'interno della coppia qua lo so che mi sono comportato male so che oltre passato il limite quindi questa persona probabilmente via corteggiate vi ha fatto credere qualcosa che di poter darvi qualcosa che poi non ha potuto darvi lo so che se mi sono comportato male quindi è conscio di come di come agito di cosa ha fatto per alcuni di voi una persona oggettivamente innamorata di voi che però non può stare con voi perché qua piange per voi oppure per altri vi ha semplicemente illuso perché di fatto così per per l'ego sostanzialmente per quale dice sei solo amicizia per me quindi magari è una persona che ci ha provato perché si sente oggettivamente solo però di fatto vi vede come un'amica per altri attenzione perché qui probabilmente la persona stessa è sicuramente felice nella sua vita nonostante magari questa situazione di solitudine che prova però vuole interrompere il rapporto con voi perché qua dice voglio lasciarti qui mi parla di una persona che forse via proprio presi in giro nel senso che aveva già un rapporto e voleva semplicemente diversi qualcosa di bello nel momento voi comunque vedo qua che me ne siete accorte perché vi dice ti sento distante quindi probabilmente vi siete già allontanate voi andiamo a vedere un messaggio motivazionale per voi vediamo che cosa vi dovete ripetere per mantenere l'equilibrio in questa situazione mi soffermo su pensieri positivi ogni pensiero che scelgo è come una goccia d'acqua quando i miei pensieri sono positivi riesco a navigare sull'oceano della vita quindi quale carte vi invitano a mantenere l'equilibrio a restare positivi di fronte alla situazione quindi non cominciate a tirare a tirare energia negativa pensando che questa persona vi ha rovinato la vita o quant'altro cioè restate con la vostra positività avete tante opportunità le cose non sono finite qui nel senso che le carte vi dicono per trovare una serenità e anche avere quello che desiderate mantenetevi positive vediamo un consiglio per coloro che hanno scelto il gattino allora qua dice meriti amore sei degno di essere amato inganno nella tua relazione qualcuno indossa una maschera che nasconde il vero sé allora qua cosa vi dicono le carte beh sostanzialmente vi dicono di amarvi quindi se questa persona non vi rende felice perché ha già una compagna perché si sta comportando male andate oltre perché voi meritate di meglio qui le carte vi invitano a ricordarvi di non abbassare la vostra autostima di cercare qualcuno che veramente abbia intenzione di darvi l'amore perché ve lo meritate e qua vi dicono fate attenzione agli inganni perché qualcuno sta indossando una maschera quindi attenzione alle persone che vi stanno magari attorno e che ve le raccontano belle ma in realtà non hanno nessuna intenzione di darvi quello che desiderate vediamo il segno di acali per il gattino nero qui allora ci sono il segno di pesci storto il segno di pesci abbiamo il leone il sagittario i segni d'acqua quindi i pesci è molto confermato ma abbiamo anche il cancro e lo scorpione e lo scorpione eccolo qua quindi pesci e scorpione sono molto presenti nella stesa anche un po il cancro leone e sagittario va bene variante del gattino io vi ringrazio per aver seguito il video vi ricordo che se mi volete contattare lo potete fare via mail o via whatsapp e trovate tutto sotto in descrizione nel video io vi mando un abbraccio mi raccomando commentate mi ditemi se la vostra stesa risuona con voi se avete trovato delle somiglianze nel vostro rapporto cosa c'è di diverso nella stesa quindi raccontatemi perché io vi leggo sempre metto di solito un cuoricino a tutti i commenti che leggo e nulla mettete un like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così vi arrivano tutti i video tutte le notifiche di video che carico una buonanotte a tutti e adesso passo alla variante 2 allora per coloro che hanno scelto l'ampollina rosa eccoci qui la mettiamo subito qua e andiamo a stendere le nostre carte vediamo cosa succede questa sera con la persona del vostro cuore allora che cosa abbiamo qui beh innanzitutto le carte evidenziano che questa persona è molto coinvolta emotivamente da voi è una persona che è stata diciamo colpita da cupido improvvisamente quindi prova molte emozioni gli smuovete proprio l'animo ed è una persona che non si aspettava di provare ancora così tante emozioni così tante così un grande coinvolgimento emotivo nei vostri confronti vedo però qui che a quest'uomo si sente un po' o inabilitato incapace di affrontare la situazione anche vecchio per alcuni di voi se questa persona ha una certa età è come se non si sentisse all'altezza di affrontare questo nuovo sentimento probabilmente qui per qualcuno di voi c'è anche una persona che è impegnata perché qui abbiamo la carta della bilancia che tendenzialmente un po' mi può riguardare la giustizia quindi una situazione di ufficializzazione di un rapporto nella quale quest'uomo non si sente considerato infatti vedete che ci sono questi scarponi vecchi messi in disparti in armadio addirittura con le ragnatele quindi una persona che si sente ormai vecchia arrivata alla fine come se non avesse più opportunità possibilità nonostante ciò comunque le scarpe funzionano ancora quindi volendo ha ancora molta strada da poter fare ma è proprio una convenzione un modo di sentirsi all'interno di questa situazione io vedo che qui probabilmente o è una persona che cerca l'equilibrio tra queste due cose quindi un equilibrio tra il sentirsi diciamo messo in disparte e le emozioni o è una persona che effettivamente è impegnata e che quindi improvvisamente si è reso conto che può ancora vivere qualcosa di bello io vedo qui che c'è un pensiero relativo alla sfera economica e anche probabilmente per alcuni di voi alla salute che io naturalmente non tratto né privatamente né ancora meno negli interattivi però diciamo mi parla di energia di benessere psicofisico quindi è una persona che comunque sta sembra bene c'è un interesse dal punto di vista economico quindi probabilmente o ha qualche problemino finanziario o il vostro rapporto riguarda un aspetto anche lavorativo finanziario quindi è una persona che sta un po' prendendo due piccioni con una fava vediamo un pochettino qui con gli oracoli del vorrei dirti che cosa emerge per chi ha scelto l'ampollina rosa vediamo un po' allora sei la mia anima gemella sono arrabbiato voglio fare l'amore con te mi dispiace se ti ho ferito mi hai ferito voglio stare con te allora qui è una persona ecco probabilmente l'equilibrio qua forse c'è stato un litigio di una persona che adesso si sente in disparte non sente più le vostre attenzioni su di lui e questo lo fa star male qua vi siete feriti reciprocamente mi fa pensare che ci sia stato un litigio tra di voi se questa persona è impegnata ma lo sapete per certo è una persona che gli dispiace molto per quanto sta succedendo per il fatto che magari c'è distanza tra di voi che vi ha ferito ed è arrabbiato anche di questo perché sa capisce che siete la sua anima gemella siete la persona giusta è un uomo che vi desidera molto voglio fare l'amore con te vi vuole vicine e voglio stare con te quindi è una persona comunque che indipendentemente da tutto dalla sua situazione vuole una relazione vuole avervi vicino perché vi desidera molto vediamo un messaggio motivazionale anche per voi dell'ampollina rosa vediamo che cosa vi dicono le carte questi sono messaggi motivazionali che dovreste ripetervi giornalmente per riequilibrare le vostre energie e far sì che guarite delle ferite cioè sapete dove dovete lavorare per fare in modo che siate equilibrate e quindi nel momento in cui siete equilibrate avete le energie positive e avete guarito delle ferite che vi impediscono a volte di agire in determinati modi arriva tutto in modo più semplice allora seguo la mia saggezza saggezza interiore sono in pace con il mio essere mi amo e confido di prendere decisioni giuste quindi abbiate fiducia in voi stesse in quello che sentite dentro nella saggezza che avete perché qui vi dicono che dovete prendere delle decisioni e per poter farlo e prendere quelle giuste dovete appunto mantenere un certo equilibrio vediamo che cosa vi consigliano le carte per l'ampollina rosa chiama la tua anima gemella le tue preghiere e le affermazioni scusate le tue preghiere le affermazioni e le visualizzazioni vi faranno incontrare vediamo ancora prendiamo le due vale la pena di aspettare il sincronismo divino e all'opera nella tua vita amorosa allora che cosa vi consigliano qua beh innanzitutto vi consigliano di mettervi in contatto con la vostra anima gemella quindi fatevi sentire se vi siete allontanati magari fate il primo passo non impuntatevi sull'orgoglio lo farà lui e quant'altro apritevi chiamatela chiamata si intende anche telefonica messaggi oppure anche semplicemente aprite il vostro cuore cioè se avete chiuso il cuore per delle ferite del passato perché questa persona vi ha ferito cercate di guarire questa situazione e qua dice vale la pena di aspettare quindi non abbiate fretta se questa persona ha bisogno di tempo se non si sta comportando come voi volete abbiate pazienza perché qua il sincronismo divino appunto è all'opera quindi le cose arriveranno a tempo debito andiamo a vedere i segni zodiacali per la variante 2 allora i segni di terra quindi capricorno toro e vergine abbiamo lo scorpione l'acquario il sagittario e i segni d'acqua quindi i segni d'acqua abbiamo già lo scorpione che è molto presente ma poi abbiamo i pesci e anche il cancro va bene variante dell'ampollina io vi ringrazio per aver seguito il video mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina mettete un like se vi è piaciuto il video e spero che questi interattivi vi siano utili vi ricordo che se mi volete contattare trovate tutto sotto in descrizione mail e numero di telefono per whatsapp e nulla io vi invito a commentare ditemi come al solito se le stese risuonano con voi vi mando un abbraccio grossissimo vi aspetto domani con una nuova canalizzazione grazie a tutti